bentornati nel mio canale oggi vi presento il centro di stiratura fast and furious 8050 extreme della cecotec è ultra potente di 3000 watt con 10 bar di pressione a una piastra ultra scorrevole è un getto di vapore di 625 grammi al minuto e 155 grammi al minuto di vapore continuo il ferro ha una base in ceramica ultra scorrevole e quindi permette di risparmiare tempo e la distribuzione del calore e del vapore è omogenea è un ferro da stilo molto ma molto professionale ha una potente scarica di vapore in una sola passata a il tasto di blocco una volta che avete finito di stirare e questo tasso è ottimo per i bambini non c'è pericolo e trovate anche il vano raccoglicavo il riscaldamento dell'acqua è molto rapido al serbatoio d'acqua estraibile che ha una capacità di due litri e potete riempirla appena finisce non c'è bisogno di aspettare e far raffreddare la caldaia qui troviamo il controllo della temperatura per ogni tipo di tessuto da stirare questo è il pannello di controllo tutto elettronico che ci va c'è il tasto di accensione e ci va a indicare il livello di vapore che si desidera troviamo anche il tasto che indica la decalcificazione e potete stirare anche con il vapore a secco con questo ferro con questa piastra voi potete stirare cotone lino viscosa lana acetato poliester ed elastam e basta impostare appunto la temperatura quando passo il ferro schiaccio il grilletto del vapore appunto come tutti i ferri da stiro per far uscire il vapore io mi trovo benissimo e sinceramente era una vita che non si lavò ma con questo è davvero un piacere nell'info box qui sotto vi lascio il mio codice sconto per acquistare questo bellissimo ferro da stiro a caldaia della ceco te fatemi sapere se anche voi lo comprerete ciao a caldaia della ceco